Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi come sia possibile automatizzare i cambi luce del proprio spettacolo nella timeline di Camelot Pro utilizzando una piccola ma efficace app ossia Midi Tape Recorder. Midi Tape Recorder è una semplice applicazione per iPad ma molto efficace sia per poter registrare che per poter caricare delle tracce midi. Può caricare e registrare fino a 4 tracce midi, a noi ne basta semplicemente una. Come vedete qui ho già caricato la mia traccia midi con i messaggi che intendo inviare al mio mixer DMX. Ovviamente per fare questo avremo bisogno di un mixer DMX che supporti la ricezione dei messaggi midi sul quale avremo preventivamente configurato tutte le scene luci che intendiamo utilizzare e richiamare in Camelot Pro. Come potete vedere, una volta configurate le scene del mixer, io mi sono creato tre scene su una song. La prima chiamata luce, la seconda chiamata pre e la terza chiamata brano. Nella scena luce, oltre al layer di controllo diretto del mixer DMX, e qui vi rimando al mio video precedente, ho inserito un layer di scena richiamando il template per la scena DMX della luce bianca. Questo serve per illuminare ad esempio la band o il frontman che presenta il brano che poi si andrà ad eseguire. Attenzione, il send clock dovrà essere attivo e in tempo e sync dovremo selezionare start, altrimenti il messaggio al mixer DMX non verrà inviato. Nella scena pre non è necessario inserire alcun layer dedicato ai messaggi midi DMX. Questa è una scena di passaggio che serve a sincronizzare il click con le sequenze. Nella scena brano andremo ad inserire un layer che io ho chiamato DMX sequencer, nel quale inseriamo un item pre-processor, midi processor con il midi tape recorder, ovviamente poi un layer connector per veicolare i messaggi al layer DMX in set list track. Spostiamoci ora nella timeline dove utilizzeremo la modalità già vista per la sincronizzazione del click con le backing tracks e anche qui vi rimando al mio precedente video tutorial. Quindi inseriamo un primo marker chiamato luce al quale corrisponderà la scena luce, dopo 5 secondi un altro marker chiamato pre con la scena pre, e infine il marker brano con la scena del brano. Attenzione! Qui occorre che nella scena pre il marker sia di stop, infine il terzo marker, quello sulla scena brano, sia un marker di play. Avviando il tutto quindi con il tasto avanti e non con il tasto play, avremo prima la scena luce all'apertura del brano, alla selezione del brano, e poi all'avvio della song partirà il brano con le luci sincronizzate. Ovviamente in MIDI tape rack bisognerà caricare un file MIDI precedentemente editato contenente tutti i messaggi relativi al cambio luce. Quindi nel mio caso i messaggi note on corrispondenti alle scene del mixer DMX che controllo con Camelot Pro. Come vedete MIDI tape recorder contiene la traccia MIDI. Con questo è tutto, se avete domande fatemele pure nei commenti del video, vi ringrazio e vi saluto.